Un saluto a tutti gli iscritti di Motori Online, come ogni lunedì io sono The Zapper ed oggi sono su questo canale per portarvi un video di curiosità sul mondo dei motori. E quindi, dopo i due video in cui abbiamo parlato delle auto più brutte mai messe in circolazione, ormai era d'obbligo portarne uno anche riguardo le motociclette. Ed oggi vi farò conoscere alcune motociclette dal design davvero strano e particolare, che dopo essere state messe in commercio ne sono state ritirate poco dopo, poiché non piacevano quasi per niente al pubblico. Ma comunque non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e passiamo subito al video di oggi. Aprilia Motò 6,5 Pensata come inno al design a due ruote e firmata da Philip Stark, la Aprilia Motò è sempre stata oggetto di discussione. Il suo artefice vanta oggetti di culto tra i suoi celebri lavori, come ad esempio lo spremi a grumi disegnato per Alessi. Ma nel caso dell'Aprilia, l'architetto francese ha scelto uno stile decisamente personale per distinguersi in campo moto, un mondo tradizionalmente più conservatore di quelli a cui lui era abituato. Il risultato non ha infatti convinto del tutto e dopo soli due anni di commercializzazione tra il 1995 ed il 1996, la moto fu tolta dal mercato. Bimota Tesi 2D Hola Ami, hola Audi La Bimota Tesi 2D è uno di quegli esemplari di moto che o piacciono da impazzire oppure fanno quasi ribrezzo. Nonostante soluzioni tecniche estremamente all'avanguardia come un forcellone anteriore che soppianta le classiche forcelle, purtroppo il design fa cazzotti con gli osservatori, poiché non mostra alcun segno di linearità. Cupolino e fari sembrano messi lì a caso e la stessa cosa vale per la marmitta. Coda e serbatoio squadrati non sembrano seguire le linee del telaio, ma soprattutto le prese d'aria sporgenti che contaminano tutto l'anteriore. Come ogni moto da corsa che si rispetti, non aveva di certo il primato nell'estetica tra i suoi obiettivi principali, ma il risultato finale, proprio per le sue particolarità tecniche, lasciava piuttosto perplessi da un punto di vista puramente estetico. BMW K1 Modello estroverso e controverso. Presentato alla fine degli anni Ottanta, doveva segnare il rilancio della casa di Monaco tra le sport tourer, ma il progetto non fu premiato da un adeguato seguito commerciale. Montava un quattro cilindri a soiola della serie K, da 100 cavalli di potenza. Aveva linee audaci e innovative, forse troppo per l'epoca, e probabilmente a causa delle sue linee molto squadrate e dalle dimensioni davvero notevoli, nonostante fosse pionieristica in alcuni aspetti come il particolare parafango anteriore, ciò non ha avuto l'effetto sperato e questa sua estetica troppo audace ha sicuramente influito sulla tiepida accoglienza da parte degli appassionati. Honda DN-01 I progetti rivoluzionari talvolta sono destinati all'insuccesso. Possono spiazzare le comuni convinzioni del pubblico fino al limite dell'incomprensione. Ed è proprio quello che è successo quando la Honda decise di presentare sul mercato la DN-01, uno dei suoi tentativi di lanciare un ponte tra il mondo degli scooter e quello delle moto. La DN-01 sarebbe l'unione di due concetti, moto-cruiser e maxi-scooter. Insomma, un ibrido, che sembra davvero partorito dalla matita di un autore manga. Buel RR1000 La Buel, fondata dall'ex pilota e ingegnere Eric Buel, oggi appartiene alla Harley-Davidson, che ne ha sospeso la produzione nel 2009. La RR1000 del 1986, che montava un motore V-twin da 998 cm3, era l'evoluzione da corsa della Harley-Davidson XR1000. Ne furono prodotti solo 50 esemplari in tutto il reparto ricerca e sviluppo della Harley-Davidson, ma il complesso sviluppo aerodinamico generò un disegno bizzarro per l'epoca. O forse, rivoluzionario. Comunque, al di là del discutibile risultato estetico, oggi la RR1000 rappresenta una vera rarità, ambita da tutti i collezionisti del settore. E quindi, spero che anche questo video sia stato di vostro gradimento, in tal caso non dimenticate di lasciare un mi piace, ma soprattutto di iscrivervi al canale di motori online, se non lo siete già. Inoltre, ricordate di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate delle moto che vi ho appena mostrato, se per caso a voi piacciono, o invece anche voi pensate che siano davvero brutte. Inoltre, non dimenticate di farmi sapere sempre nei commenti se per caso voi conoscete degli altri modelli davvero strani e particolari di motociclette che io non ho nominato all'interno di questo video. Magari potrei utilizzarle per fare una prossima top 5. E quindi, penso che anche per oggi ci siamo detti tutto. Ricordate che se questo video è stato di vostro gradimento lasciateci un mi piace e noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video.